Con una tua immagine ed un pezzetto di plastica puoi creare un ologramma tridimensionale di te stesso che fuoriesce dal tuo smartphone, proprio come questo. La prima cosa che ti devi procurare è quella che prende il nome di piramide a cornicio olografica, che in realtà non è niente di più che questo pezzetto di plastica. Può costruirlo da solo oppure acquistarlo in rete a 1 o 2 euro. Per il resto si tratta di inserire l'immagine desiderata su uno sfondo nero, ripetuta per tutti e quattro i lati, con la parte inferiore rivolta verso il centro e posizionare sopra il visore olografico. Voglio farti un regalo, e non si tratta di questo. Per semplificarti la creazione dell'immagine ti lascio in descrizione il link all'articolo sul mio blog dove potrai trovare il codice completo in Google Apps Script per generare il tutto automaticamente Google Slide, il PowerPoint di Google. Una volta copiato e incollato il codice nell'editor di script del menu Strumenti, dovrai solo modificare il riferimento all'ID dell'immagine caricata sul tuo Google Drive. Avviato lo script, il risultato sarà subito pronto per essere visto in 3D. Questo è solo un esempio ludico di cosa è possibile fare con Google Apps Script anche strumenti che non sono i soliti fogli Google. La disposizione automatica degli elementi nelle slide, come immagini, testi o numeri, può essere molto utile nelle attività quotidiane. Ad esempio, può creare uno script che con un click genera un report aggiornato in PowerPoint e lo inviano automatico per email al cliente. Te ne parlo in modo dettagliato nel mio libro Punta in alto con Google Apps Script disponibile su Amazon al link che trovi in descrizione. Spero che questo video ti sia piaciuto. Iscriviti al mio canale se ancora non l'hai fatto per essere aggiornato sulle prossime uscite. Per il momento ti saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!